Problema comune tra Liguria e Lombardia, Francia è circa 5.000 lavoratori, ma i nostri sono un paese extracomunitano. Sono 3.600 lavoratori e 1.500 lavoratori con la fascia. Però noi abbiamo un grosso problema con quello di scarico, ovviamente oltre alla fascia dei 20 milioni. Oltre alla fascia dei 20 milioni c'è una questione. Adesso abbiamo fatto un nuovo accordo con l'espressione. Sì, lo so, infatti ci tenevo proprio a vederla perché ho seguito la questione. Tra l'altro oggi c'è la Rai che ci ha fatto un documentario che è venuto anche su da voi, proprio per quanto riguarda la questione fiscale dei frontaliere. Noi abbiamo un grosso problema, che è quello all'apporto fiscale. Abbiamo un paese in crescita di confusione, abbiamo una fuga verso l'estero. L'italiano sono 3.500, è in crescita ogni anno l'impresa occupazionale. Però gli italiani stanno prendendo tutti quanti la residenza, tra la fascia e la fascia, perché fiscalmente è molto più conveniente. Cioè, il rapporto all'Italia. Noi abbiamo quel bonus fiscale del 1.500, che è stato tornato a quella città. Però non è ancora sufficiente un fronto a quello che paghiamo. Abbiamo più rispese, i guadagni sono inferiori. Cioè, il nostro netto diventa l'ordine. Si diventa. Si diventa.